Vedete che i sassi grossi vanno giù dei suoi, senza problemi, così, picchiettino piano piano, tac, tac, così. La macchina ci vuole di bella vista, questo è un posto spettacolare, enorme, qui è tutto da assaggiare, questa è una punta, di là c'è un'altra punta, ma è enorme. Il nostro canalino, che è sempre qui che lavora, qui abbiamo sempre le nostre pagliuzze, le nostre sono mosse, ok? Ora vi faccio vedere il deflettore, il regolatore di flusso, guardate, lo tiro giù e chiudo il flusso, ok? E vabbè, un po' entro, ma è poca. Adesso ci mettiamo un attimo qui. Vedete? Ora, se riesco con la mano, ma è difficile, cazzarola, non se riesco, non se riesco a farlo prima che si consuma la batteria, dai. Allora, lo prendo con la mano. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di buono. Allora, aiuto, no, aiuto. Ecco, il telefono, dovevo andare a cercare, a metterlo un po' meglio. Allora, adesso io prendo un po' di acqua, non so se si vede cosa sto facendo, eh. Prendo un po' di acqua e vado a sciacquare tutto quello che c'è sulla canellina. Allora, qui si è fermata addirittura ora, non so se poi lo vanno a morire, eh. Guardate, 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 ce n'è, ce n'è di ora, ce n'è. Vi ho fatto un bel lavoro. La canaletta è pulita, la nostra bella canaletta. la super snipe piccola comoda veloce cura va bene torniamo noi andiamo a pulire bene così piano non ci perdiamo niente qui c'è un po di duro lavoro allora bisogna cercare di fare questo questo movimento il rotatorio e poi una volta ogni tanto quando il materiale più grosso sopra si va da un colpettino così piccoli colpettini tipo piccole onde piccole onde che vanno a pulire il materiale adesso torniamo giù perché ho già visto che si stava spostando un po di oro mi raccomando fate sempre questo dove non c'è corrente rischiate di anche sbattere così non c'è problema così adesso di nuovo onde su onde su onde piano vedete piano perché stiamo già sulla seconda riga quindi è meglio tornare giù questa è una battea abbastanza professionale cioè da esperti diciamo quindi non dico di essere esperto ora vedete che stessi grossi vanno giù da soli senza problemi così picchiettino piano piano così 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 ok state sempre attenti di guardare dove si ferma il vostro oro così ancora uno ok torniamo giù e dovremmo trovare dovremmo trovare magnetite è quello che c'è beh non sono neanche piccolo eh guarda lì guarda questo che roba aspetta lì c'è un po di video guardate che roba quella è questa sarà quasi quattro millimetri mezzo mille mezzo centimetro quelle queste due o tre o quattro wow niente male niente male sono soddisfazioni dai un po di video